Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla penultima gara della stagione di sci alpino, ultima gara femminile, lo slalom gigante da Courchevel. Quindi bando alle ciance, ciance alle bande, andiamo a vedere com'è andata, perché è la prima manche. La prima manche è stata dominata da Sua Maestà Michaela Schifrin, che ha dato la bellezza di 82 centesimi alla nostra Federica Brignone, di 84 centesimi alla Racknil Muinkel, mentre le altre atlete sono oltre il secondo. La Vlova è quarta a un secondo e 0,8, la Guttberami è quinta, addirittura un secondo e 32. Un po' più vicine le altre perché la decima, che è la Grenier, è a 1,68, quindi magari le altre se la possono ancora giocare. Diciamo che dal secondo posto in poi se la giocano, ma la Schifrin ha 82 centesimi di vantaggio, direi che ha già, tra virgolette, ipotecato la gara, salvo disastri. Per quanto riguarda le italiane, benissimo Brignone seconda e Bassino sesta, malissimo Elena Curtoni addirittura ultima, però almeno potrà partire per prima e magari provare a recuperare qualche posizioncella con la pista bella pulita, tutta per lei. Comunque la classifica della prima manche vede Schifrin al primo posto, Brignone al secondo, Movinkel terza, Vlova quarta, Guttberami quinta, Bassino sesta, Gazienica Daniel settima, la Vorlet ottava, la Ghisin è nona e la Grenier è decima. Andiamo a vedere come è andata la seconda manche, 25 atlete, anzi 26, 25, no 25, 25 atlete al via, la prima scendere è la nostra Elena Curtoni, avevo messo una cosa in più, sì, prima di parlarvi della, no, era così, perfetto, lasciamo così, la prima scendere dicevamo è la nostra Elena Curtoni, una gara come le capita spesso senza errori, la seconda manche uno la vede e dice mamma mia come scia bene la Elena Curtoni, il problema è se ha fatto correre o meno lo sci, il suo tempo totale è 2 minuti 18 secondi e 99 centesimi, tocca alla Oldenair, 19 centesimi di vantaggio, sulla nostra sciatrice, e 24esima dopo la prima manche, una buona gara dell'elmetica che si prende la prima posizione con ben 45 secondi di vantaggio, adesso bisognerà vedere se è stata brava la Oldenair, Wendy Campanellino Oldenair, o se, ahimè, la Curtoni, la nostra Elenona, ha fatto sì una gara perfetta, ma di sci non sono stati velocissimi, tocca alla campionessa juniores Magdalena Hegger, solo 9 centesimi di vantaggio sulla sciatrice elvetica, e 23esima dopo la prima manche, signori, dopo il norvegese ragazzino che ieri è entrato nei 10, maschio masculo, campione juniores eccetera eccetera di slalom gigante, la ragazzina Magdalena Hegger ha fatto una gara pazzesca e si prende il primo posto con ben 51 centesimi di vantaggio sulla Wendy Campanellino Oldenair, non è che abbiamo detto baubau micio micio, è tanta roba, tocca a Stefani Brunner, vantaggio di 51 centesimi sulla giovane compagna di squadra, perché è svizzera la Magdalena Hegger, e 22esima dopo la prima manche, gara ancora più pazzesca nella Brunner, è prima con ben un secondo e 31 di vantaggio, o qua vanno tutte a rilento, quindi le altre le passano davanti, o se no qua ci sono los fenomenos che stanno facendo, los miraculos, tocca la Bucic, ventesima dopo la prima manche, vantaggio di 33 centesimi 33 centesimi sulla sciatrice austriaca, una gara incredibile, si pensava finisse dietro, invece riesce a passare al comando, per soli 5 centesimi, gli ha recuperato nell'ultimo tratto di gara, 46 centesimi, era in luce rossa di 41 al terzo intermedio, tac, a me è solo lì la gara perfetta, vabbè, tocca all'arcarda, Aser, 18esima dopo la prima manche, vantaggio di soli 11 centesimi, purtroppo dopo il terzo intermedio, in luce verde di 43 centesimi, quindi l'arcarda stava facendo un galone, scivola sul dosso e vola via buttando la gara, nulla di grave a parte l'incazzatura per la scivolata, tocca alla truppe, vantaggio di 47 centesimi sulla sciatrice slovena, una bella gara della truppe, truppe guaiò come la chiamo io, peccato per la quattro decimi dopo il terzo intermedio, ma comunque prima con ben 57 centesimi di vantaggio, ne aveva quasi un secondo al terzo intermedio, poi l'ultima parte della bucica era stata eccezionale, veramente infatti ci ha perso quei 40 centesimi come li aveva recuperati 45 alla ragazzina, vabbè comunque la truppe è prima, tocca alla sternia su 12esima dopo la prima manche, vantaggio di 42 centesimi sulla sciatrice austriaca, bella gara nella sciatrice norvegese, che nella parte finale fa la differenza, e si prende il primo posto per 39 centesimi, in ogni caso signori miei, la truppe truppe entra nelle 15, quindi prende comunque dei punticini, che servono sempre, è la volta della Grenier, decima dopo la prima manche, vantaggio di 19 centesimi sulla sciatrice norvegese, bella gara della canadese, si prende a sua volta la prima posizione, anche se per soli 13 centesimi, in ogni caso è sempre stata in luce verde per tutta la discesa, quindi 19 centesimi non è che siano un vantaggio enorme, tenerli sempre, che siano di più, che siano di meno, è già comunque fare una buona gara. Tocca la Ghisin, nella gara di Slalom speciale, era caduta malamente, in questa gara era nonna, dopo la prima manche, con soli 2 centesimi di vantaggio, sulla sciatrice canadese, e quindi la Ghisin, nonostante quel volo di faccione, eccetera eccetera, non si è fatta fortunatamente nulla, e si è presentata allo stesso, al cancelletto di partenza, nella gara del giorno dopo, e ha fatto comunque una buona gara, visto che è nelle 10, e scendendo da nona, con un vantaggio di soli 2 centesimi, con un'ultima parte finale di gara da libidile, si prende il primo posto, con 25 centesimi di vantaggio, quindi male che vada, starà nelle 10, un volo allo posto, che non fa schifo. Tocca alla Borlet, vantaggio di soli 6 centesimi, sulla sciatrice svizzera, e ottava dopo la prima manche, anche per lei è una buona prova, si prende a sua volta al primo posto, con 18 centesimi di vantaggio, tenete conto che Borlet, Hector e, sua maestà, si stanno giocando, la coppetta di specialità, e io non vi dirò, in ogni caso al termine della gara, chi avrà vinto, perché vi farò il video riepilogativo, dopo, nei prossimi giorni, in cui vi dirò, i vincitori della Coppa Generale, e i vincitori delle varie coppe, sia maschili, che femminili, quindi non vi dirò nulla, vi dirò solo chi, avrà vinto la gara. tocca alla nostra Marta Martissima Bassino, sesta dopo la prima manche, vantaggio di 23 centesimi, sulla sciatrice francese, una bella gara della nostra ragazza, che si prende al primo posto, anche se per soli 14 centesimi, anche lei è benissimo, nell'ultima parte di gara, l'ultima parte di gara, devo dire che, sta facendo la differenza, e è lì che si fa la differenza, come si suol dire. Marta zitta zitta, cacchia cacchia, ancora, prima, e tocca, alle prime tre. La prima scendere, terza dopo la prima manche, è la Movinkel, vantaggio di ben 53 centesimi, sulla nostra sciatrice, purtroppo per la sciatrice norvegese, e non per la nostra, è soltanto quarta, con 29 centesimi di ritardo, quindi, Marta Martissima, Libidine, è sul podio, vedremo se sarà terza, se sarà seconda, o se sarà prima, in ogni caso, avremo un'italiana sul podio, perché adesso tocca, a Federica Brignone, tocca alla nostra Federica Brignone, per una bella doppietta italiana, vantaggio di 55 centesimi, sulla compagna, e seconda dopo la prima manche. Alla fine è davanti per soli 31 centesimi, quindi avremo sicuramente due italiane sul podio, e per vedere se saranno prima o seconda, prima o terza, seconda o terza, manca solo lei, è lei, o non è lei, è lei, o non è lei, certo che è lei, sua maestà, Micaela Schiffri, e adesso tocca a lei, prima, dopo la prima manche, e vantaggio di ben 82 centesimi, sulla nostra Federica Brignone. signori, come è successo ieri, che è scesa un po' scazzatiella, o meglio, come è successo nella gara precedente, nel giorno prima, anche in questa, Micaela Schiffri ha fatto una seconda manche, da schifio, e infatti è soltanto settima, con ben 67 centesimi di ritardo, doppietta italiana, nell'ultima gara di sci, alpino femminile, record di vittorie, ben 11 vittorie in questa stagione, delle ragazze italiane è record, non era mai successo che le nostre sciatrici, facessero 11 vittorie in una stagione, quindi un'andata da doppia libidina, coi fiocchi, e poi vedremo come sono andate, le questioni delle coppe, coppette e coppettine, classifica finale della Coppa Generale, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto andiamo a vedere come è stata la classifica finale dell'ultimo gigante femminile della stagione 2021-2022 di sci. Vittoria di Federica Brignone, davanti a Marta Bastino, terza la Vlova, due terzi posti in due giorni per la Vlova, quarta la Vorlet, quinta la Movinkel, sesta la Ghisin, settima la Shiffrin, ottava la Gazienica Daniel, e non a pari merito la Gutmerami e la Grenier. Ventiquattresima, ahimè, solo ventiquattresima la nostra Elena Curtoni, che non ha recuperato una beata Giovanna. E adesso, come sempre, andiamo a fare la solita comparazione, signori miei, perché è bello, è bello vedere la comparazione tra prima e seconda Manche. Nella prima Manche, la Grenier era decima, nella seconda, la Grenier è nona, a pari merito. Vabbè, ha recuperato una posizione. Nella prima Manche, la Vorlet era ottava, ebbè, la Vorlet non riesce a entrare neanche, no, è quarta, la Vorlet è salita in quarta posizione. Libidine. Stavo dicendo, non c'è no, è quarta. Quindi Vorlet, quarta, da ottava, quarta. la Gasenica Daniel era settima, nella prima Manche, nell'ottava, perde una posizione, c'è la ottava, ma può andare bene. Nella prima Manche, la Bassino era sesta, e invece Libidine, sale in seconda posizione. La Gut Berami era quinta, e ahimè, perde ben quattro posizioni, adesso potrà andare a farsi consolare dal maritino Berami, giocatore che non so adesso dove giochi, perché è finita in nona posizione. La Blova era quarta, e invece termina sul podio terza, un po' come è successo l'altro giorno, un giorno prima. La Buvinchel era terza, e perde due posizioni e quinta. La Brignone era seconda, e va a vincere. E la Schifrin era prima, e ahimè, termina al settimo posto. Quindi praticamente, tutte le dieci che c'erano nella prima Manche sono rimaste anche nella seconda, però si sono scambiate le posizioni. Non capita spesso che tutte e dieci le sciatrici della prima Manche terminino la seconda Manche comunque nelle dieci. Poi magari una passa dal decimo al sesto posto, dal primo al settimo, dalla seconda al primo, eccetera, eccetera. Si scambino le posizioni, questo può succedere, ma che tutte e dieci restino nelle prime dieci posizioni, anzi nelle prime nove, visto che abbiamo un esse qua al nonno posto, non capita spesso. Detto questo, ragasoli, abbiamo concluso la stagione femminile, manca solo lo slalom speciale maschile che vi farò in giornata, e poi nella giornata di di mercoledì, oppure nella notte di questa notte, vi farò il riepilogone, non so se vi vedrò i due video, il maschile e il femminile, li farò tutti assieme, vedrò la lunghezza, quanto vengono, per quanto riguarda tutta la stagione di sci con riepilogo dei primi tre della Coppa Generale e delle varie coppe di specialità, con piccola nota di merito per le nostre italiane, in cui vi dirò tutte le nostre ragazze, e naturalmente tutti i nostri ragazzi, in che posizione si sono ritrovati poi nelle varie specialità. quindi magari ne farò due visto che ci vorrà un attimino di più anche per raccontarvi delle varie posizioni maschi e femmine. Inoltre vi farò un bel video che riguarderà l'Oscar, l'Oscar, perché l'ho registrato, me lo guarderò e vi racconterò un po' di cose cercando di essere il più rapido possibile perché sapete sono prolisso e non vorrei farvi un video di 30-35 minuti che poi non lo guarda nessuno, ci hanno guardato pochi i miei video quindi figurati se lo faccio di 30-35 minuti mi sparate. Detto questo chiedo venia come al solito mi sono dilungato e ci vediamo alle prossime. Ciao!